A Metaurilia Cucurano scatta l'autovelox, da domani molte salate per chi supera i 50 km orari. Sanità, ricce e seri vanno all'attacco, no al taglio dell'azienda ospedaliera, basta penalizzare il nord delle macchie. Canone di locazione, acqua, tassa sui rifiuti e buoni spesa, il comune di Fano sigla un protocollo con i sindacati per le risorse destinate alle famiglie in difficoltà. Al via la bonifica bellica, nel parcheggio di via del risorgimento a Fano, previsti 80 posti auto, stalli per bici e moto, 33 alberature e un nuovo ingresso verso i passeggi. E' tutto pronto per il concorso Canoro sulle note della fortuna, attesi a Fano i 5 cori finalisti con 300 bambini delle scuole primarie italiane. Buonasera e bentornati sul canale 19, lo avete sentito dai nostri titoli, da domani entrano in funzione i due autovelox a Metauriglia e a Cucurano di Fano. Oggi abbiamo fatto il punto con la comandante della polizia locale, Anna Rita Montagna, che ha ricordato anche le multe previste. Il servizio di apertura è stato curato da Filippo Pucci. Entreranno in funzione a partire da domani, mercoledì 1 giugno, i due nuovi autovelox posizionati a Cucurano e Metauriglia di Fano. I dispositivi acquistati dal comune e gestiti direttamente dalla centrale di polizia locale, vigileranno i tratti stradali in entrambi i sensi di marcia, sanzionando chi non rispetta i limiti dei 50 km orari, dalle auto agli autocarri fino ai ciclomotori. Nelle zone limitrofe alle apparecchiature sono stati inoltre installati due cartelli stradali per segnalare la presenza degli autovelox. Attenzione dunque alla velocità e alle multe. È uno degli strumenti di sicurezza che le amministrazioni mettono in campo, volte proprio ad evitare gli incidenti. Per quanto riguarda le sanzioni, queste sono diverse a seconda della velocità che viene rilevata. Vanno da un minimo di 42 euro che sono previste per chi tiene una velocità che è fino a 10 km in più rispetto alla velocità massima consentita, per poi salire a 173 euro per chi tiene una velocità che va da 11 a 40 km in più rispetto al limite massimo, cifre che sono ridotte del 30% se vengono pagate nei primi cinque giorni, ma cifre che sono aumentate di un terzo se questa velocità viene tenuta in orario notturno. Orario notturno che, lo ricordo, va dalle 22 di sera alle 7 del mattino. Queste sono ovviamente previsioni del codice della strada e più la velocità aumenta, più abbiamo detto le sanzioni aumentano, con anche previsione di decurtazione di punti della patente di guida, fino anche ad arrivare pure alla previsione di sospensione della patente quando la velocità supera i 40 km in più rispetto al limite massimo consentito, ovviamente intendiamo da 91 km in su. A tal proposito ricordo che è previsto proprio da codice della strada una tolleranza della velocità di 5% con un minimo di 5 km. Ciò significa, per ricordare, ad esempio riguarda la sospensione di patente, affinché ci sia, deve essere tenuta una velocità che vada da 96 km in su, perché poi ne vengono tolti 5, che 96 meno 5 fa 91 e da là scatta la sanzione più elevata con sospensione di patente. Tamponamento a catena oggi pomeriggio, poco prima delle ore 18 all'uscita della superstrada Sant'Urso di Fano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture, ma non si registrano feriti. Inevitabili però il disagio e la circolazione che ha subito forti rallentamenti. A Pesore invece questa mattina si è verificato un incidente sull'autostrada A14 in direzione Nord. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi lungo la careggiata. Sul posto il 118 che ha soccorso l'autista, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento e la polizia autostradale per i rilievi di legge. Cancellare l'azienda ospedaliera Marche Nord è un danno enorme, lo affermano il sindaco di Pesore Matteo Riccio e il collega di Fano Massimo Seri, uniti nella convinzione che la proposta definitiva del modello di riforma della sanità marchigiana presentata dall'assessore Salta Martini sia allarmante. Senza azienda ospedaliera hanno spiegato il nord delle Marche non avrà le eccellenze che merita e di conseguenza tanti cittadini continueranno a scegliere l'Emilia Romagna per curare malattie o fare interventi aumentando la mobilità passiva. Ricci e Seri hanno chiesto un incontro al presidente della regione Francesco Acquaroli per scongiurare, hanno detto, l'impostazione deleteria e pericolosa a cui andrà incontro la sanità. Un problema che si ripercuote su tutti i marchigiani che continueranno a pagare altre regioni per curare pesaresi e fanesi. Non ultimo il tema della mancanza di personale. Ribadiamo la nostra preoccupazione, hanno concluso i due sindaci in particolare per lo stato del pronto soccorso. Sappiamo quanta difficoltà c'è nel reperire medici ma senza personale l'ospedale non regge più. Cambiamo argomento. Il Comune di Fano e i sindacati hanno siglato un accordo questa mattina per rinnovare in un percorso condiviso le risorse da destinare a chi si trova in difficoltà. Dai buoni spesa alle agevolazioni sulla tassa sui rifiuti fino a sostegno per il pagamento degli affitti. Il Comune di Fano rinnova anche quest'anno l'impegno per aiutare chi si trova in difficoltà. Da una parte infatti la pandemia ha aggravato le condizioni economiche e sociali di molte persone e intere famiglie. Dall'altra vi è un aumento indiscriminato e speculativo dei costi legati ai servizi di prima necessità come genere alimentare, gas ed energia elettrica. Così per contrastare il disagio che colpisce una fascia di popolazione sempre più ampia è stato intrapreso un percorso con i sindacati per mettere a punto un protocollo di intesa firmato questa mattina e finalizzato a dare risposta all'emergenza in atto. È importante perché prevede delle misure concrete tra cui l'impegno anche quest'anno a mettere risorse di bilancio come compartecipazione rispetto al riparto che la Regione farà dei Fondo Nazionale per il Sostegno al Pagamento dei Canoni di Locazione. L'anno scorso questo ci ha prodotto un effetto moltiplicatore, ha moltiplicato per tre le risorse e ci ha consentito di soddisfare tutto il fabbisogno su Fano. Dall'altra utilizziamo, non l'abbiamo fatto negli ultimi anni, un fondo che Aset mette a disposizione dei servizi sociali sulle bollette, sull'aiuto al pagamento per le utenze domestiche, per il servizio idrico e per il servizio rifiuti, quindi la Tari. E la terza è, negli anni passati abbiamo usufruito del fondo nazionale, dei fondi nazionali per quello che riguarda i buoni spesa, chiaramente era legato al Covid, dal 31 marzo siamo fuori dall'emergenza, però noi abbiamo destinato risorse comunali che vanno a favore delle famiglie in difficoltà che chiaramente rientrano nei criteri ISEE che sono stati condivisi nel regolamento, che ormai è un regolamento d'ambito, anche con le organizzazioni sindacali. Sono quelle famiglie in difficoltà che sono prese in carico dai servizi sociali. Ad oggi si tratta complessivamente di 290.000 euro, ma è una base di partenza, ha precisato Tinti, e il percorso condiviso con i sindacati non si fermerà qui, ha detto, perché continueremo a lavorare in sinergia per dare risposte e aiuti concreti alla comunità. Più nel dettaglio, per quanto riguarda la Tari, come ha spiegato l'assessora al bilancio Sara Cucchiarini, le agevolazioni verranno applicate con misure diverse sia alle famiglie che alle attività economiche. L'applicazione di un fondo di elevazione Tari di 550.000 euro che applichiamo direttamente al PEF quest'anno, un altro fondo di circa 450 per sostegni e agevolazioni Tari alle attività non domestiche, quindi alle attività produttive, e un altro fondo di oltre 200, poco meno, di 250.000 euro per le utenze domestiche, quindi le famiglie. Queste cifre, proseguito l'assessore, sono frutto di un lavoro fatto con parsimonia e che stiamo portando avanti da tempo, sia con manovre contro l'evasione, sia con l'individuazione di risorse direttamente nel bilancio comunale. Uscirà un bando oppure i cittadini si vedranno direttamente in bolletta lo sconto? Per quanto riguarda le utenze domestiche, a breve uscirà un bando per cui sarà necessario esibire l'ISE, per cui chiediamo già a quelle famiglie che sanno di avere un reddito inferiore ai 13.000 euro di prepararsi, proprio come abbiamo fatto lo scorso anno, e utilizzare questa possibilità che uscirà comunque nelle prossime settimane. Quindi lanciamo questa comunicazione, ringraziamo anche FanoTV per questo, per prepararsi per poi fare domanda per uno sconto in bolletta, sostanzialmente, attraverso l'ISE. Questo per le utenze domestiche, quindi per le famiglie, mentre invece per le attività produttive, le utenze non domestiche, lo sconto sarà direttamente in bolletta perché i criteri sono stati decisi a monte, in giunta, per le categorie merceologiche individuate. E a proposito di risorse, domani a Sant'Angelo Invado si conclude il percorso di ascolto e di dialogo con i territori avviato dalla Regione per informare sui bandi e condividere opportunità e novità. Formazione, consulenza, promozione, ma anche innovazione e investimenti, sono più di dieci bandi presentati e centinaia le presenze registrate nelle tappe dedicate ai dialoghi con i territori per il PSR Marche, il programma di sviluppo rurale che offre diverse opportunità alle imprese in base alle varie esigenze. Il confronto avviato dalla Regione, come spiegato dal Vice Presidente Mirko Carloni, Assessore all'Agricoltura, ha l'obiettivo di illustrare queste misure in modo chiaro e trasparente per far comprendere agli imprenditori quali sono le risorse a disposizione per i loro piani industriali. Il ciclo di incontri è proseguito nei giorni scorsi nel Comune di Cartoceto. Vorremmo fortemente che ci sia un trasferimento tecnologico e anche un miglioramento delle capacità produttive nelle imprese agricole perché vorremmo che si rafforzassero, vorremmo che diventassero sempre più competitive e in qualche modo anche noi come Regione, prendendo spunto anche dagli errori del passato fatti con i precedenti PSR, si possa migliorare la capacità di investire e di migliorare anche il reddito delle aziende. La prima misura messa in campo, ha aggiunto Carloni, è la 6-1, dedicata al ricambio generazionale che rappresenta un'occasione per i giovani agricoltori. Un grande obiettivo, cioè quello di fare in modo che i genitori passino le aziende e i figli e che sempre più giovani si avvicinino al mondo dell'impresa agricola per far sì che quella transizione, quella biodiversità, quella produzione di cibo rimanga intatta. Abbiamo anche presentato, poi ha aggiunto Lorenzo Bisogni, sia i bandi aperti che quelli di prossima emissione, oltre alle anticipazioni sulla programmazione 2023-2027. Al centro dell'attenzione la competitività dell'impresa attraverso la filiera, quindi la commercializzazione dei prodotti da parte di gruppi di agricoltori che cercano di ottenere dal mercato maggiore peso contrattuale nei confronti del trasformatore o della grande distribuzione. Parliamo di filiere di livello regionale, quindi con dotazioni anche del bando abbastanza importanti, arriviamo dai 25-30 milioni di euro tra tutte le misure, perché poi i soggetti promotori della filiera decideranno come meglio impiegare le risorse, o per investire nell'azienda agricole o nell'azienda di trasformazione, oppure fare promozione e quant'altro, insomma quindi c'è un pacchetto di misure tra cui scegliere. Come stanno rispondendo gli imprenditori a questi bandi? Stanno rispondendo bene per quelli che abbiamo già aperto, infatti sulla misura di investimento nell'azienda agricole, a fronte di 30 milioni che avevamo messo come dotazione, ne sono arrivati il doppio di domande e quindi dovremo un po' trovare risorse aggiuntive per cercare di accontentare il maggior numero di imprese. Questo bando uscirà entro giugno, quindi speriamo che anche qui ci sia una buona adesione per favorire proprio la competitività delle imprese agricole. L'ultimo appuntamento promosso dalla Regione e dal PSR Mar, che si svolgerà domani alle 17.30 Sant'Angelo in Vado. L'incontro si focalizzerà sui temi legati alle tartufaie e alla filiera del legno e dell'energia. Entro sei mesi diventerà un parcheggio verde funzionale, quello di via del risorgimento a Fano, dove nei giorni scorsi è iniziata la bonifica bellica. Il cantiere invece partirà nelle prossime settimane. Sono iniziati i primi interventi per l'avvio dei lavori sulla realizzazione del parcheggio di via del risorgimento, quello a fianco del commissariato di polizia di Fano. Nella giornata di ieri sono terminate le rivelazioni con i metal detector per la bonifica bellica. Sono state rilevate alcune situazioni da verificare, per questo in questa settimana l'avete trovato chiuso, perché proprio oggi e domani stanno facendo queste verifiche. Non è stato trovato niente di preoccupante, è solo del materiale ferroso che comunque è stato tolto bonificato, quindi domani finiremo questo intervento. In questo parcheggio sorgeranno 88 posti auto a cui si aggiungono quelli destinati ai ciclomotori e quelli riservati ai disabili. Nei prossimi giorni la ditta appaltatrice del progetto inizierà i lavori effettivi sulla riqualificazione dell'area. Apriremo questo parcheggio temporaneamente per questo periodo diciamo che non ci saranno i lavori per poi richiuderlo definitivamente per finalmente l'inizio dei lavori. L'area di sosta sarà completamente gratuita, illuminata e ricca di alberature per favorire l'ombra durante la stagione estiva. I tempi previsti per i lavori sono di circa sei mesi per un costo totale di 400 mila euro. È un parcheggio in materiale drenante, alberato, ci saranno degli stalli per biciclette e motorini. È molto importante anche che realizzeremo un ingresso diretto verso i passeggi in modo da collegare questo parcheggio anche più facilmente al centro storico. Parliamo della raccolta dei rifiuti perché in occasione della stagione estiva ci saranno dei cambiamenti a Torrete e a Ponte Sasso di Fano. Infatti dal primo giugno al 10 settembre il calendario della raccolta domiciliare prevede che il servizio di ritiro porta a porta di rifiuti indifferenziati avvenga tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato con inizio della raccolta a partire dalle 5 del mattino. A cambiare sarà anche il ritiro di rifiuti organici che durante l'estate non avverrà più a domicilio, bensì bisognerà conferirli negli appositi contenitori posizionati in strada. Il 2 e 3 giugno sono attesi a Fano circa 300 bambini finalisti del concorso Canoro sulle note della fortuna. Oltre al trofeo che verrà assegnato dai piccoli studenti di Bellocchi, una giuria di esperti decreterà i vincitori di tre borse di studio. Arrivano da Piacenza, Forlì, Senigaglia, Genova e Finile di Fano i 5 cori finalisti del concorso Canoro sulle note della fortuna, organizzato dall'associazione Tra le note e promosso insieme alla fondazione Teatro con il patrocinio del comune. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione e dedicata alle scuole primarie, vedrà la partecipazione di 300 bambini. Il programma è ricco come tutti gli anni, in una ripartenza ancora di più. Il 2 giugno prevede le audizioni dei cori che sono stati selezionati in un momento antecedente alla Sala Verdi, alla presenza della giuria qualificata, che valuterà il primo step perché i cori si esibiranno con base orchestra, quindi prima di incontrare l'orchestra e verranno valutati dalla giuria come primo ascolto in assoluto. Invece nella giornata di venerdì 3? La mattina i cori arriveranno e faranno la prova, la prima vera prova con l'orchestra, perché quest'anno appunto la novità è l'orchestra. I cori saranno accompagnati dall'orchestra con le parti arrangiate da Luigi Grigioni Faggi, quindi un'operazione abbastanza grande. La mattina quindi eseguiranno le prove in teatro e il pomeriggio invece ci sarà la serata finale, quindi diciamo la gara, una gara tra virgolette perché è una festa, dove verranno individuati tre vincitori che vincono una borsa di studio per proseguire i progetti corali e anche verranno premiati da una giuria di bambini, che sono i bambini del coro di bellocchi che per la prima volta si trovano ad essere giudicanti di amici coristi, quindi di colleghi coristi e decreteranno il vincitore del premio La Fortuna. I genitori che accompagneranno i piccoli coristi potranno seguire l'evento dal Cinema Politeama, dove verrà proiettata l'iniziativa, visibile anche in diretta sul canale YouTube dell'associazione. La finalità dell'evento è quella di promuovere la cultura e l'educazione musicale nelle scuole perché sono anche considerate fondamentali nel processo di maturazione e di affermazione della propria identità. Il progetto è stato condiviso sin da subito anche dalla presidente della Fondazione Teatro. Il nostro obiettivo, ha dichiarato Katia Amati, è quello di aprire il teatro ai giovani facendo sì che questo luogo di cultura possa essere di tutti. Fanno aggiunte invece il sindaco Massimo Seri è ancora una volta capitale delle bambine e dei bambini. Iniziative infatti sono sempre più e di grande valore. Questo concorso Canoro per cori di bambini e bambini è un bel momento, devo dire negli anni è cresciuto, ha avuto purtroppo l'interruzione della pandemia, ma qui c'è stata un'evoluzione ulteriore perché oltre ad esibirsi i cori con le bambine e bambini sono accompagnati anche da un'archestra di giovani, di ragazze e ragazzi. Quindi è un inno alla giovinezza, è una valorizzazione dei nostri ragazzi, ma soprattutto è una bella iniziativa per la città, per chi viene e qui, come dico sempre, le cose non capitano per caso. Qui c'è un grande merito, è quello del coro di Bellocchi e della maestra Stefania con la sua organizzazione, con i suoi collaboratori perché, come dicevo, le cose non capitano per caso, non è la fortuna, vanno preparate e qui c'è stata un'elaborazione, un'evoluzione che ha portato a questi grandi risultati. Quindi grande soddisfazione, ma soprattutto un grande grazie a chi rende possibile tutto questo. Ancora eventi, l'Arsi di Fano Cartoceto in collaborazione con la Fondazione Carifano organizza un concerto di beneficenza in favore dell'emergenza ucraina. L'iniziativa si svolgerà venerdì 3 giugno alle 21.15 alla Pinacoteca San Domenico a Fano e vedrà la partecipazione di artisti russi e ucraini. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi un approfondimento dedicato alla decima edizione di Passaggi Festival. Domani mattina invece torna il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri. Buona serata a tutti e arrivederci a domani.